Carlo è nato a Milano, in Italia. È italiano. Abito ad Atene, in Grecia. Sono greca. Luca non è tedesco, ma va a Bonn, in Germania. Lui viene da Londra, in Inghilterra. È inglese. Claudia è di Parigi, in Francia. È francese. Roberto è di Berna, in Svizzera. È svizzero. Lidia abita ad Algeri, ma non è algerina. Chi è nato a Palermo è un palermitano. Chi è nato a Firenze è fiorentino. Sua zia è giapponese. Viene da Tokyo. Carlo è di Milano e lavora in Svizzera. Mario viene da Firenze, in Toscana. È toscano. Claudia abita a Madrid, in Spagna. È spagnola. La Germania in Europa. È un paese europeo. che èui daoste. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.